Le nostre gare sono un po' particolari perché devi essere completo sia dal punto di vista atletico per la salita ma anche per la discesa. Tante volte si parte con gli sci ai piedi già dalla partenza, altre volte può capitare di partire di corsa ma il valore del nostro sport è di avere gli sci ai piedi dall'inizio alla fine della gara solo in tratti di creste aeree oppure di passaggi particolari dove c'è del ghiaccio come ad esempio il trofeo mezzalama dove si fanno questi passaggi in cresta si utilizzano anche i ramponi in certe occasioni e c'è da dire che bisogna essere anche molto bravi a cambiare l'assetto vuol dire da modalità di salita togliere le pelli, chiudere gli scarponi, agganciare gli attacchi per poter affrontare le discese o viceversa in fondo a una discesa rimettere le pelli di foca, sbloccare gli scarponi e partire per la salita aspetto il 23 marzo alle ore 21 su Sky Sport Arena per vedere e sentire parlare di sci alpinismo ciao ciao